Il cane ha mangiato la tua busta paga Yuen, non potresti inventarne una migliore? Sono stato rapito dagli alieni Mi hanno prelevato a piccadilli È stato... Ma come fa a lavorare qui? Io non riesco neanche a inventare una palla decente Senti, non voglio ripeterlo Niente busta paga, niente libertà vigilata Il rifugio per cani mi sta benone Ho trovato la mia dimensione Guardi, qui sono ritratto con i cani Quello è il capo È un tipo a posto Piacerebbe anche a lei Ah, eccola, vede? Me l'ha zannata gocciolone Yuen, questa è una nota di credito Già, beh, siamo un po' a corto di fondi al momento Chloe, hai visto? Chiedo scusa Non ti preoccupare Yuen se ne stava andando Va bene Grazie, signorina Alla prossima settimana Sì, e con la busta paga Sono stata chiara? Trasparente Tenga pure la foto Riesci proprio a terrorizzare tutti Ed è per questo che ho scelto te È lui? Linea Pronto? È lui? Sì Resta lì Respira profondamente Arrivo tra un secondo D'accordo? A presto Dov'è lasciare il pane Il casco Ciao Chloe Hai dimenticato questo? Cosa? Ah Yuen Un sentito? ечно Tutti Ricordano Chiara